Che bello chi sei guarda! Hai visto Greta che belli i cagnodini? No, no, sto filmando, è l'unica. Posso chiedere? Sì, 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 fai pure. Cos'è una pepina? Maschio. Un maschietto di macolo lì. Si è sbagliato. Sono due maschi. C'è i miei anni. Cosa mi dici? Non mi pare di rovizio. Bello, bello. Quanta? Fa, lui fa tre anni. Lui è piccolo, lui ha uno. Che bello. Che bello qua. Lai su me. Fa, stai ti che stai facendo il film. Nogno. Che bello! Il vai da la mia. Che è giusto! Che bello. Ha, mmmm. Ehi. Grazie a tutti.